Amedeus Mozart è stato un infame prodigio. Suo padre lo portava per le corti europee dove si esibiva ad età molto giovane. Spesso si sottoponeva delle prove difficili per un bambino prodigio quali era lui. Tutte le corti europee se lo contendevano per le sue esibizioni. Un bambino prodigio portato per tutte le corti europee. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS